con questo nuovo direttore che era molto molto bravo molto capace umanamente una persona di grande di grande livello sia tecnico sia l'insegnamento sia anche di strategia della gestione del paziente del medico ho cominciato a lavorare a pisa in università e poi marchetti si è trasferito al rizzoli io a pisa avevo continuato a fare un po di po di ricerca in collaborazione con gli ingegneri dell'università e a bologna si era creata l'apertura dei nuovi laboratori per cui io sono andato a bologna sia per fare il chirurgo sia perché marchetti mi aveva affidato diciamo questo questo progetto il rizzoli aveva acquisito un grande spazio ogni direttore di clinica che erano tre aveva il suo laboratorio e il laboratorio del professor marchetti venne affidato a me non c'era niente non c'era proprio nulla non c'erano i muri grande spazio quindi necessità di trovargli una ideale collocazione di ricerca un argomento di ricerca dei collaboratori che facessero ricerca delle strutture per fare ricerca e dei laboratori iniziai a creare questo laboratorio che si occupava inizialmente fondamentalmente di biomeccanica più meccanica applicata e con il gruppo di pisa realizziamo fra le altre cose realizzammo il primo robot chirurgico per la chirurgia delle protesi di ginocchio nel mondo tanti anni fa questo tanti anni fa 30 anni fa e quindi questo laboratorio poi è cresciuto molto nel tempo è diventato un laboratorio importante con una grossa produzione scientifica che poi è la produzione scientifica che ho mandato avanti io e poi alla biomeccanica si è aggiunta la medicina rigenerativa poi le ricerche nella nano medicina le innovazioni tecnologiche è diventato un centro importante che adesso che non ci sono più continua andare avanti con la sua strada grazie 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 grazie